La cantante neomelodica appartiene a un gruppo storico delle coccinelle, poi ovviamente la strada è lunga e artisticamente ha preferito lavorare da sola e effettivamente sta avendo un enorme successo dal punto che la signora Zambrano l'ha voluta qui con noi. Signori e divertitevi, amatela perché è simpaticissima ed è orecchiabile, ha una voce pazzesca, la sua energia esploda per tutto, Samantha Sugar! La cantante neomelodica appartiene e canna sti canzone romantiche e bella, già quando è l'entrata un bello mi piace di cantà e grazie a cui mostro un verità. Quanta sagge, gisze, setta la cantante a le tende, ne meli nel rimettam, tra matrimonio e tutte le andras e sottibendite in semame. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.